Buongiorno e benvenuti alla segna stampa di oggi lunedì 24 aprile. Vediamo quali sono le notizie importanti della giornata, anzi con questa formula in realtà è un po' retorica perché è evidente che la notizia importante della giornata tutti quanti i giornali probabilmente d'Europa e d'Italia titolano sulla scontro tra Le Pen e Macron, tranne uno, Libero, che dice Giletti fa fette fini e si riferisce a una cosa che peraltro alcuni giornali ha e cioè che nell'arena di Giletti, nel programma di Rai 1 della domenica, Giletti ha cercato di inseguire fini per chiedere il conto della casa di Monte Carlo, praticamente l'unico programma televisivo che si è occupato ancora di questa cosa per cui noi venivamo dileggiati come macchine del fango e Fili scappa e non dice nulla. Ma il resto dei giornali parlano della vittoria di Macron e il secondo posto della Le Pen. Io sono stato oggi, ho fatto soltanto un esercizio per voi che, anche se è un po' tardi, sono 11 e un quarto questa mattina, un esercizio per voi, cioè ho cercato un elemento, una gemma, una perla di originalità negli articoli che ho letto oggi. Vi devo dire che ce n'è davvero poca, forse il tema è molto difficile, anche ieri sera a Matrix in realtà non è che siamo stati dei fenomeni a tirar fuori chissà che cosa di interessante. È molto difficile trovare qualcosa che valga la pena. E quindi io vi dico, e vi do un consiglio molto semplice, se seguite questa piccola tavola sinottica che vi do, non avete bisogno di leggere praticamente nulla, centinaia di pagine, di righe scritte che dicono semplicemente le seguenti cose. Intanto c'è la cronaca di quello che è successo, Macron è arrivato prima della Le Pen, e quindi confermando i sondaggi che per questa volta hanno funzionato, a differenza del caso Trump e del caso Brexit. Poi c'è uno scontro gigantesco tra l'europeismo manifestato da Macron in tutte le maniere e invece il populismo scontato della Le Pen. Poi l'altro tema enorme che c'è su tutti quanti i giornali è che c'è stata una sconfitta dei partiti tradizionali, una sconfitta del Partito Socialista, del Presidente Hollande e la sconfitta del Partito Repubblicano guidato da Fillon. Poi dopo ci sono i ritratti, ci sono i ritratti della Le Pen e qui forse c'è qualche considerazione da fare. Nei ritratti della Le Pen il ritratto è sempre fatto con questo odore, questo sapore di sconfitta. Cioè la Le Pen ha preso 7 milioni di voti, si tratta dell'affermazione più importante del fronte nazionale, forse il giornale lo mette in evidenza, ma il resto dei giornali dà il senso che ci sia stata una sconfitta del fronte nazionale. Non so che cosa si aspettassero, probabilmente che arrivasse prima di Macron, che comunque ha avuto una grande affermazione, ma l'area di questi ritratti della Le Pen sono tutti l'area dei giornalisti che sono un po' disgustati di scrivere della Le Pen, che comunque godono per il fatto che non si è arrivata prima. Ci sta, ma è quello che si legge ovunque. Completamente diverso il ritratto parallelo che i giornali tutti fanno di Macron. Eppure su Macron ce ne sarebbe da dire di cose. Ha fatto già il ministro dell'economia nel governo più impopolare che esistesse in Francia, cioè quello di Valls, ha lavorato in una banca che si chiama Rothschild ed è diventato milionario da molto giovane, ha sposato una signora che ha 20 anni più di lui e di cui si è innamorato a 15-16 anni. Insomma, elementi di criticità, secondo il canone tradizionale della stampa italiana, contro i banchieri, contro gli strani amori, contro, che non è la Bausini, è la questione di Macron, contro quelli che hanno già fatto parte dell'establishment sin da giovani, ma ecco, questo accento non c'è. Un'altra cosa che mi sarei atteso, che forse il giornale in una certa misura evidenzia, e beh, io mi ricordo 5 anni fa come eravamo tutti pazzi, non io, assolutamente, di Hollande, tutti folli della nuova ventata socialista, eravate tutti socialisti, il renzismo doveva prendere da Hollande lo spirito dei tempi, oggi siamo tutti macroniani. Ecco, forse l'idea di un articolo, se uno avesse voglia di farlo, è come veramente non c'è mai nessuno sui giornali che alza un po' la testa sopra il pelo dell'acqua, è anche vero che la politica estera è una cosa talmente noiosa che interessa poco, ma i risvolti per l'Italia ci sono e come. Le interviste sono numerosissime ad Attalì, che considera essere l'uomo che ha scoperto Macron, quindi proprio l'establishment puro, quello che ha fatto tutto per Mitterrand e per tutti gli altri politici socialisti, l'intervista a Tajani, che dice un'altra cosa che in parte scrive anche Sallusti oggi sul fondo del giornale, cioè Tajani e Sallusti sostengono che i populisti senza i moderati non vanno da nessuna parte e questo sarebbe il caso della Le Penne. E poi favoloso Picchetti, che stava con il socialista Hamon, che prende meno del 10%, intervista che se volete vi leggete. Nelle analisi politologiche è forse interessante un aspetto che cita folli, cioè che Renzi, e tutti quanti citano Renzi, Macron, li mettono uno vicino all'altro, Renzi, a differenza di Macron, non è stato così trasversale, cioè non ha saputo far confluire su di sé i voti del centrodestra nella misura in cui invece c'è riuscito Macron. Questo non so se sia vero, all'Europa, quando ha preso il 40%, forse un po' di destra l'ha votato, ma il tema resta. Questi sono i punti fondamentali. Un po' mi sarebbe divertito scavare su Macron nella sua vita privata, così come hanno fatto sulla Le Penne, sulla Le Penne la bende del padre, addirittura a destra o a sinistra, insomma tutto sappiamo della Le Penne. Su Macron forse il Daily Mail oggi giustamente dedica due pagine, dice la rivoluzione francese, e la seconda pagina, quella di destra, mette la foto di Macron con sua moglie, e non fa altro che parlare del rapporto tra Macron e la moglie. Io me lo sarei bevuto. Devo dire che però non c'è molto, anche perché la moglie, Sabrine, ha molto già detto sui giornali. Beh, è stupenda, si fa per dire, per cambiare capitolo, invece il pregiudizio che abbiamo, talvolta ce l'ho anch'io, devo dire, nei confronti del ministro Alfano, oggi ministro degli esteri, tutti quanti dicono, figure che ormai abbiamo perso del grande, che vi ricorderete il giornalista in Turchia, la più esplicita era Sarzanini sul Corriere della Sera, del grande si allontana il rilascio. E Travaglio, nelle sue pillole del lunedì, sfotte Alfano perché avrebbe detto che Alfano che prima o poi l'avrebbero rilasciata. Il punto è che stamattina i giornali, quando erano in edicola, non sapevano che Gabriele del Grande è stato liberato, appunto, e che è appena atterrato, mentre parliamo a Bologna. Un po' più di prudenza. Prudenza che però non c'ha il Conte Mascetti, l'uomo della Rai, che ha assunto 21 persone senza fare job posting, secondo l'accusa, senza rispettare le regole. In maniera un po' inusuale, devo dire, Cantone, ieri in televisione, ha detto che la Rai è stato il mio più grande in successo. Non me lo venga a dire a me, non lo venga a dire agli italiani che pagano il carone per il Conte Mascetti, ma, insomma, un attacco al Conte Mascetti di questo livello da parte di Cantone perché non ha spiegato le sue assunzioni è una botta, niente male. Su Alitalia ha parlato del Rio, ha detto che questa è l'ultima chance, ma soprattutto, ricordatevi, no a nazionalizzazione, se non dovesse passare il referendum. Vedrete che da oggi pomeriggio in poi di Alitalia si parlerà i come, sui giornali oggi ce n'è molta, ma il senso degli italiani, nei confronti degli italiani, dell'Alitalia, devo dire che è ormai da qualche anno di disgusto, forse anche un po' eccessivo, oggi come oggi. Di Maio si litiga con Saviano, fa un'intervista sul fatto che dice guardate che sulla questione delle ONG e dei migranti, io non cerco voti che l'accusa che gli ha fatto Saviano, ma chiarezza su chi mangia. E qua il problema è come al solito, il Movimento 5 Stelle non riesce a farne una bene, ma è certo che c'è anche un po' di chiarezza su chi mangia, l'ha detto Giordano, eccetera, ma il problema non è tanto chi ruba che c'è, ovviamente come problema, il problema è che noi siamo invasi da 180.000 persone all'anno che non siamo in grado di gestire, poi ci sarà gente che ruba, come dimostrano tutte le cooperative che sono state pizzicate in mafia capitale, ma il punto non è quello, il punto è che anche se non si rubasse, anche se fossero tutti dei bravi bambini, quelli che li accolgono, beh, insomma, ci sarebbe un problema che si chiama immigrazione e quindi Di Maio su quello non può fare il duro, ma invece dovrebbe farlo proprio su quello il duro, e cioè sul fatto che non è compatibile con il nostro sistema un flusso migratorio di questa dimensione. Oggi Pascale sul foglio del lunedì ci racconta cosa vuol dire vivere vegano e non addentare una mozzarella che tanto ama, io direi che per oggi è tutto, insomma, della Francia sappiamo tutto, cioè niente, ciao.